147. Perché il Crawford si uccise? Commento. William John Crawford, 1865-1920, fisico inglese, docente di meccanica nell'Università di Belfast. Dal 1917 al 1920 condusse esperimenti sui fenomeni fisici della medium goliga. Voleva stabilire ovviamente con la mente alcune leggi della paranormalità fisica. Il Crawford notò che l'emissione di ectoplasma provocava una perdita di peso nello strumento, le cui carni si afflosciavano. Tale perdita avveniva anche negli astanti. Per qualche tempo le esperienze del Crawford furono considerate definitive. Poi altri sperimentatori con altri strumenti ebbero risultati completamente diversi. Il Crawford morì suicida lasciando scritto «Sono mentalmente prostrato. Stavo benissimo fino a poche settimane fa. Non è stato a causa del lavoro psichico. Mi piaceva moltissimo. Dico con riconoscenza che questo mio lavoro rimarrà. È stato condotto in modo troppo completo per lasciare adito a scappatoie materialistiche».